Ben trovati, ben trovati ancora in diretta, grazie a Mitia Gialluz, presidente della società velica di Barco Legriniano che in un momento comunque difficile, complesso ha accettato di venire da noi a spiegare il perché dell'annullamento, anzi il perché è evidente perché il maltempo lo vediamo, addirittura lo sentiamo tutti, decisione difficile credo ma necessaria. Sì, buongiorno a tutti, negli ultimi mesi abbiamo lavorato duramente e approfitto per ringraziare tutti i componenti dello staff della Barcolana, le istituzioni, le forze dell'ordine, gli sponsor che ci sono stati vicini per dimostrare che in un'epoca di pandemia si possono fare gli eventi, sono state giornate bellissime a Trieste, venerdì, sabato e ringrazio anche i triestini, tutti coloro che sono arrivati a Trieste perché si sono comportati in maniera molto disciplinata, hanno tenuto la mascherina sulle rive, in Piazza Unità, la manifestazione si è svolta con grande compostezza, poi di fronte alla natura non si può far nulla e quindi bisogna da uomini di mare arrendersi alla bora, alla pioggia, un allerta meteo che era stata diramata ieri dalla protezione civile, questa mattina c'è stato un briefing in Capitaneria di Porto e anche l'ammiraglio Vitale ha condiviso questa soluzione, questa scelta, abbiamo messo le boe nel campo di regata questa notte, abbiamo tentato fino all'ultimo di fare la Barcolana 2020, poi abbiamo dovuto arrenderci al vento, ma credo che la bora abbia sconfitto il Covid, se così possiamo sintetizzarla. La cosa che mi è piaciuta anche nel vostro comunicato stampa è stato riferimento ovviamente al Capitano Kersi e al suo, un buon marinaio è quello che lotta in mezzo al mare per portare a casa equipaggio e barca, un ottimo marinaio è quello che ha scelto di non uscire e lo guarda dalla finestra di casa. Sì, abbiamo messo in quel comunicato di dire l'ultima parte di Sandro Kersi, dice la guarda dal bar con uno spritz in mano e oggi sarà una giornata più che da spritz, quasi da Vinbrulè davanti al caminetto. In questi giorni ci è mancato tanto Sandro Kersi che nelle Barcolane difficili, ricordo quella del 2015, era sempre vicino e io lo chiamavo ogni due ore per chiedergli le previsioni meteo e Sandro con la sua voce tenue era sempre così preciso e puntuale nel darci la rotta. Quest'anno Sandro è mancato tanto ma l'abbiamo pensato veramente ogni giorno e ancora questa mattina e il suo insegnamento ce lo portiamo dentro. Lui ci ha sempre raccomandato la prudenza in mare e la saggezza del velista. Da bambino ho imparato andando per mare due valori fondamentali, il coraggio e la responsabilità. Oggi è il giorno della responsabilità e della saggezza. Ecco, tra l'altro spieghiamo una cosa perché noi che siamo un po' più abituati alla Barcolana sappiamo che quasi sempre quando c'è Bora, Borino, la mattina di solito quando, e se esce il sole, il vento tende di solito a calare. Questa situazione odierna invece, stando i previsori a Sergio Norde dell'Osman, è esattamente contraria, cioè io ho sentito tuonare alle 5 del mattino, ho sentito iniziare a piovere alle 6 del mattino, ho iniziato a sentire la Bora forte ma pare che invece oggi aumenterà all'ora di pranzo invece di diminuire. Sì, le condizioni alle quali accennavi tu Marco sono condizioni di Bora chiara con il sole, quindi nel momento in cui con il bel tempo si scalda l'atmosfera la Bora tende a calare intorno all'ora di pranzo. Questa è Bora scura che nasce da una bassa pressione molto forte che si è collocata fuori in mezzo al Golfo di Trieste tra Salvore e Lignano e che quindi risucchia aria molto molto forte e sempre più fredda tra l'altro dalla zona dell'altipiano carsico, quindi sono condizioni di Bora scura in aumento e questa è stata un'altra delle valutazioni che abbiamo fatto questa mattina in Capitaneria di Porto perché noi dobbiamo prendere in considerazione la sicurezza dalla mattina, cioè da prima della regata fino alla sera, al momento in cui le barche rientrano o rientrerebbero a terra dopo la regata e quindi d'intesa, ripeto, con la Capitaneria di Porto, con il comitato di regata si è presa questa decisione. Approfitto anche per raccomandare tutti gli equipaggi a non lasciare gli ormeggi perché le condizioni meteomarine nel Golfo di Trieste, ripeto, peggioreranno nel corso della giornata, nella notte e anche nella mattina di domani, ci sarà bel tempo probabilmente ma la Bora veramente molto molto sostenuta. Ecco, questa immagine che noi vediamo, adesso possiamo mettere anche a schermo intero, c'è talmente vento, pioggia che praticamente appiattisce un po' tutto, ma riuscite a vedere sullo sfondo gli sbuffi bianchi del Golfo di Trieste in una situazione che, come dire, tenderà ad andare a complicarsi ulteriormente in mezzo al Golfo di Trieste. Ecco, lasciamola così perché via via con un po' più di luce sarà tutto ancora più chiaro. Io mi sento di dire, tra l'altro a livello personale, che probabilmente, siccome siamo in condizioni che forse, anzi no, pensavo alla regata del 2001, quando ruppero diverse dotazioni di bordo, addirittura peggiori se non simili, però forse oggi quella regata non si sarebbe disputata con magari una sensibilità diversa, mi viene da dire. Questo non lo so, quello che posso dirvi è che nei giorni scorsi ho chiesto ai previsori dell'Osmer, a Sergio Nordi o a Arturo Puccillo di tirare fuori le carte meteorologiche del 2000 e di fare un confronto. Devo dire che c'era una situazione abbastanza sovrapponibile con la differenza che quest'anno in più abbiamo i temporali e la pioggia. In quel caso c'erano dei minimi barici proprio sul campo di regata, quest'anno il minimo barico è un po' più all'esterno del Golfo di Trieste e quindi produce una bora più costante e più forte. In quella circostanza c'erano stati dei colpi di bora molto forti in alcune zone del Golfo in corrispondenza dei minimi barici e in altre zone invece c'era vento più, non voglio dire leggero, ma insomma meno intenso. Oggi invece le condizioni sono, ripeto, di una bora progressivamente è sempre più forte, che è iniziata come era prevista da tutti i modelli, da quello svizzero, il tedesco ai modelli americani, a partire dalle 3-4 di mattina e poi a salire progressivamente. Si sta verificando quello che era stato previsto. Rispetto a 20 anni fa sicuramente i modelli matematici sono molto più precisi e ci danno praticamente al minuto le indicazioni del meteo. Ecco, Mitia, entrambi abbiamo gli occhiali e magari non abbiamo una vista di falco, però a me sembra che quella sulla sinistra in basso possa essere una boa. Quella è la boa, anch'io adesso non riesco a vederla, però quello che posso dirvi è che abbiamo, sì, credo che sia la prima boa della Barcolana che era stata collocata, come vi dicevo, nella posizione prevista dal bando di regata, ieri sera è uscito il rimorchiatore quando le condizioni erano ancora buone per collocare la boa di partenza, la boa 1, la boa 2, la boa 3, in modo tale da essere pronti a svolgere la regata. Questo a testimonianza del fatto che ci abbiamo provato veramente fino all'ultimo, ancora questa mattina sono andati sul campo di regata dei gommoni e un rimorchiatore che poi ci ha inviato in diretta al briefing meteo in capeteria di Porto, le immagini dal campo di regata e le condizioni erano già allora proibitive, 3 ore fa, 2 ore e mezza fa, perché c'erano già 35-40 nodi e stava montando il mare. Quindi credo che, devo dire che sto ricevendo anche messaggi da tanti amici vedisti e non che mi ringraziano per questa decisione. Io credo che, ribadisco che voglio ringraziare tutto il mio staff, a cominciare da De Ambassi per andare ai previsori dell'Osmer e a tutti coloro che hanno lavorato giorno e notte per realizzare questa manifestazione. Resta l'amaro in bocca, resta la delusione per l'annullamento della regata, ma l'evento si è fatto, credo che abbiamo portato in città un po' di buon umore, un po' di ottimismo, giornate positive in un contesto complicato. Chiudo anche sul tema dei tamponi, dei test rapidi, per ringraziare le persone per la disponibilità e la collaborazione che hanno avuto, che hanno dimostrato. Avevamo previsto il test rapido solo per gli equipaggi più numerosi, da 8 persone in più, abbiamo ricevuto tante telefonate di armatori e velisti di piccole barche che ci hanno chiesto, ma possiamo fare il test rapido perché noi vogliamo andare in barca sicuri. Credo che questa sia stata una bella pagina di storia della Barcolana, abbiamo anche fatto una sperimentazione scientifica che aiuterà a validare i test salivari, che sono quelli che ci possono veramente cambiare la vita nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, penso soprattutto alle scuole, penso alle persone con disabilità anche fisica o mentale, penso alle persone più anziane perché il tampone effettivamente non è piacevole, non è facile soprattutto per i bambini. Quindi Barcolana è stata anche un'occasione per portare avanti la sperimentazione scientifica in materia di misure anti-Covid. Certo, ribadiamo l'invito fatto dal Presidente della Barcolana Grignano a chi si fosse messo in ascolto solo ora, non lasciate gli ormeggi, restate con le imbarcazioni in porto perché le condizioni diventeranno ancora più severe e ricordo a tutti che proprio in quell'edizione insomma bella tosta della Barcolana di cui parlavamo prima, una velista donna si fece molto molto male, prese se non sbaglio il boma sulla testa e quindi non per fare terrorismo, semplicemente per farvi capire che in queste condizioni si resta in circolo, si resta a terra, si fa una chiacchierata con la mascherina addosso e si sta belli tranquilli. Assolutamente, stavo per dirlo io con la mascherina addosso, ma devo dirvi che i velisti in questi giorni sono stati veramente rispettosi dei protocolli e delle regole con alcune eccezioni, ma insomma ci concentriamo sulla stragrande maggioranza delle persone che hanno rispettato il protocollo della Barcolana, io chiudo davvero con un ringraziamento a tutti coloro che ci sono stati vicini in questi mesi duri e andiamo avanti, ci rivediamo alla Barcolana nel 2021.